Ciao Sydney, io sono Alessio, sono di Livorno, ma sono qui a Riccione per lavoro. Football, vino e cibo, qui le puoi trovare tutti i giorni. Se vieni qua potrei farti fare un bel giro in canoa, nelle prime ore della mattina. Poi ti potrei far mangiare una bella zuppa di pesce, appena pescato da noi stessi. Il vino in Toscana, guarda, non te lo sto nemmeno a dire perché abbiamo il vino rosso più buono al mondo. Vieni a Livorno quando vuoi. Ciao Sydney!